Potrebbero già essere stati individuati gli aggressori del pestaggio avvenuto in campo Santa Margherita a Venezia. Grazie alle testimonianze e alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona, la polizia infatti ha avviato immediatamente le indagini e facendosi un'idea precisa di chi possano essere i responsabili. Sono personaggi ormai noti, ha detto il questore Mascio Pinto, riferendosi anche agli episodi simili verificati sì un anno e mezzo fa e che avevano portato ad una serie di misure cautelari nei confronti di minorenni e maggiorenni. Sono sempre gli stessi, ha spiegato. In quella zona ci sono le telecamere ma conosciamo i soggetti e interverremo con lo stesso metodo che un anno fa stroncò questi eventi. Il modus operandi è sempre lo stesso. Un gruppetto di ragazzi, tra i 16 e i 18 anni circa, che aggredisce una coppia di adulti all'esterno di un locale senza motivo, con schiaffi, pugni e calci. Poi se ne vanno. All'epoca abbiamo dato una ripulita, proseguito il questore. Adesso torneremo alla carica con misure restrittive di tipo personale. Ci dispiace in particolare che sia accaduto nei confronti di turisti ma comunque anche in questo caso la scelta delle vittime è stata casuale. Il questore ha evidenziato che c'è un gruppo di lavoro per contrastare questi fenomeni anche con un'attività intensiva di vigilanza in città.